Alluvioni lampo e forti raffiche di vento sono l'espressione del cambiamento climatico che il nostro territorio sta vivendo. Già nelle settimane passate avevamo preannunciato che a causa dell'innalzamento delle temperature dei mari purtroppo si sarebbero creati dei medie cane che avrebbero creato grosse difficoltà alla popolazione e al dispositivo di soccorso. Dispositivo di soccorso che come sempre ha grosse difficoltà per le carenze di organico e la mancanza di mezzi. Oltre a questo ha inciso ovviamente anche la questione Green Pass che ha ridotto del 20% il personale dei vigili del fuoco. Noi come organizzazione sindacale continueremo a pressare, a tutelare i diritti dei lavoratori e a tutelare la popolazione perché senza un dispositivo di soccorso efficiente, senza prevenzione, messa in sicurezza del territorio purtroppo vivremo quotidianamente e costantemente situazioni simili. L'estate prima, l'inverno dopo. Pertanto ci auspichiamo una presa di posizione da parte della politica che possa invettire la rotta e tuteli il lavoro, il soccorso tecnico urgente e la popolazione.